Rino Piccolo, il volto notissimo dello sport bassanese, tutti crederanno se Rino passa ci sarà soltanto ciclismo, non è vero perché Rino Piccolo si è sempre occupato di sport a 360 gradi? No, io sono Presidente Veterani dello sport, quindi vuol dire che prende tutti gli sport, non solo il ciclismo, certo la mia provenienza è da questo sport e naturalmente ho un certo attaccamento, però sono anche rivolto a tutti gli altri sport, mi piacciono tutti, di conseguenza è questo che penso sia una cosa che si può fare. Partendo dai giovani, dove lo sport chiaramente sta avendo dei problemi in tutti i campi, anche nel ciclismo e non solo, cosa potrà fare un amministratore per poter dare l'infa vitale alle società che stanno soffrendo? Noi guardiamo il panorama bassanese, il panorama bassanese è importantissimo perché ci sono risultati in tutti i campi, dal calcio, dall'hockey, dal pallavolo, da altri sport. Quindi noi adesso anche cerchiamo di fare di tutto per ripristinare il velodromo Rino Mercante, tanto è vero che assieme all'UC2000 e al nuovo gruppo sportivo si è formato per gestire il velodromo, ci sono i campionati italiani giovanili. E questo è molto importante perché noi guardiamo soprattutto, io in particolare, anche se sono veterano dello sport, ma guardo i giovani, i giovani è la speranza del futuro per tutti, non solo per lo sport ma anche per tutte le attività. E quindi quello è, il futuro è nei giovani, dobbiamo cercare di essere molto attenti in quello che è lo sviluppo della nostra gioventù. Beh, le faccio un in bocca al lupo doveroso, un in bocca al lupo sportivo. Certamente, grazie, crepi il lupo.